Caravaggio, uno dei pittori più amati e celebrati di tutti i tempi, è protagonista di una mostra dossier che presenta uno dei suoi capolavori, il San Giovanni Battista, proveniente dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. L'esposizione dell'opera a Torino è frutto di uno scambio promosso dalle direzioni dei due musei. La mostra romana di Palazzo Barberini accoglie infatti nel suo percorso la rarissima tavola di Hans Memling, con la Passione di Cristo, conservata alla Galleria Sabauda. Il San Giovanni esposto nel capoluogo piemontese raffigura il Battista, uno dei santi più venerati dalle chiese cristiane. Caravaggio lo mostra ancora adolescente in un momento di riposo nel deserto dove trascorse gran parte della sua esistenza. Proprio per le persone che abitano sul nostro territorio, che magari i musei li hanno già visti e quindi bisogna costruire delle occasioni diverse, ecco questo è quasi doveroso. L'esposizione è anche un'occasione unica per mostrare lo stretto dialogo che intercorre con le opere di quei pittori italiani e stranieri che furono profondamente influenzati dalla pittura del Caravaggio. Un percorso artistico che in un momento così drammatico per la pandemia può aiutare lo spettatore a guardare oltre e a viaggiare attraverso bellezza e immaginazione. Penso che tutto questo serva nei momenti di difficoltà, serva a spingerci avanti, serva ad immaginare il futuro, serva a creare dentro di noi dei nuovi sogni e delle nuove vocazioni.